La libertà è la possibilità di dire che due più due fa quattro? Quante dita ti sto mostrando? Quattro. E se lo Stato dice non quattro, ma cinque, quante sono? Quattro. Intensità 2-0. Uno, due. Quante sono le dita, Winston? Quattro. Quattro. Intensità 3-0. Intensità 3-0. Uno, due, tre. Cinque, cinque, quattro, cinque. Quello che volete. Ma lasciatevi. Basta adesso. Basta. Tu menti. Pensi ancora che siano quattro. Come faccio a non vedere quello che ho di fronte? Due, due fa quattro. Qualche volta, ne abbiamo già discusso. A volte fa quattro e altre volte, se lo Stato lo ordina, fa cinque. Quante dita vedi? Sto cercando di vederne cinque. Ma che cosa vuoi fare? Persuadermi che ne vedi cinque o vederle realmente? Vederle realmente. Intensità 6-0. Intensità 6-0. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Avanti, quante sono le dita? Non lo so. Non lo so. Quattro, cinque, sei. In tutta onestà non lo so. Non lo so. Vanebio.